Seconda tappa del viaggio nei cantieri, è una città che cambia, siamo a una scuola Leonardo da Vinci dove è in corso il secondo lotto degli interventi che abbiamo progettato per questa scuola, il primo l'abbiamo completato diversi mesi fa, adesso il secondo con l'idea e con l'impegno di restituire alla comunità scolastica integralmente questo spazio all'inizio dell'anno scolastico. In questo lotto stiamo completando l'adeguamento sismico dell'intero edificio e l'efficientamento energetico. Per noi la scuola è stata e sarà una priorità in termini di impegno e anche di destinazione delle risorse. In questo lotto vale circa 800 mila euro di investimento, gran parte dei quali finanziati nell'ambito del piano nazionale di riprese e resilienza che si sommano a circa un milione e mezzo investiti diversi mesi fa nella realizzazione della prima fase delle lavorazioni. Quindi sono circa 2 milioni e 3 di investimento, questa scuola tornerà integralmente alla comunità scolastica con il prossimo anno, con l'inizio del prossimo anno, completamente adeguata da un punto di vista sismico e efficientata da un punto di vista energetico. Grazie a tutti.